Scapricciatiela mia, fattenna gata, fino a un muoingalera, rinda aftumeta. Scapricciatiela mia, fattenna gata, fino a un muoingalera, rinda aftumeta. Scapricciatiela mia, fattenna gata, fino a un muoingalera, rinda aftumeta. Scapricciatiela mia, fattenna gata, fino a un muoingalera, rinda aftumeta. Per lo della speranza, la speranza che lumbra il cammino de mi solidà. Scapricciatiela mia, fattenna gata, fino a un muoingalera, rinda aftumeta. Scapricciatiela mia, fattenna gata, fino a un muoingalera, rinda aftumeta. Ed eccoci anche un po' internazionali. Mi ha portato dallo psicologo. Dottore, mio figlio è timido e non parla, va a scuola, a casecchiesa e poi non mangia. Che devo fare? Non so. Signora, se vuole suo figlio guarire, ve lo devo dire, dovete morire. Un po' drastica come cosa, ma l'accettiamo. Manuela Morra sarà sicuramente d'accordo con te. E soprattutto hanno bisogno di indipendenza dalla famiglia di origine. Loro e i loro genitori. Se no succede quello che diceva la canzone, che la cosa migliore è quando il genitore non c'è più. Prima di collegarmi con i viaggi, un intermezzo dei nostri Napolera per incornisciare questo momento. Io saluto il mio amico Luca, grazie. Buona giornata. Sempre che ti pergunto Che quando, come e dove Tu sempre mi rispondi Chissà, chissà, chissà E così passano i giorni E io un desesperato E tu, tu contestando Chissà, chissà, chissà E stai perdendo il tempo Pensando, pensando Per lo che ma succhiera E così passano i giorni E io un desesperato E tu, tu contestando Chissà, chissà, chissà Chissà, chissà, chissà E la nostra rita spagnoleggiante stamattina